Ciao, io sono Giuliano Molineri, ho lavorato per l'Ixid e per il World Design Capital Torino 2008 e quindi ho un'esperienza fresca di che cosa rappresenti una nomina così importante per la città e per il nostro paese. Con un anno di relazioni internazionali, di rapporti con le aziende, con la cittadinanza, noi abbiamo allargato la conoscenza del design e promosso il design come una disciplina che può aiutare a migliorare le qualità della vita e i rapporti sociali. Se un, sono certo, saprà far meglio, nel senso che beneficerà anche della nostra esperienza ed ha tutti i mezzi per fare un programma denso per un anno che rimarrà come esperienza per i programmi futuri. Grazie